Sento spesso, no, queste cose, tutte le benedizioni che Dio riverserà sul suo polpolo e poi ci sono tutti questi professori di prosperità prestando venite a Gesù e vi darà questo, e vi darà questo, e vi darà questo e i cantori del Vangelo della Prosperità venite a Cristo e il Signore vi darà questo, questo e quest'altro non ho bisogno di nessuno io di questi non so che fare io non andrò all'inferno io sono non ho bisogno di altro da parte vostra io vado in cielo and if I had to write for the rest of my life in present anche se dovessi marcire per il resto dei giorni in galera I have eternal life even today even today comincio a correre all'impazzata screaming I'm saved I'm saved e grido sono salvato, sono salvato, sono salvato Gesù è risorto Amen Amen Grazie a tutti Grazie a tutti